Dal 2 dicembre dello scorso anno la situazione all'altezza del secondo ingresso per Marina Rimodica è ancora questa. La cabina e l'antenna di un noto operatore telefonico si trovano come rimaste dopo l'incidente che si è registrato appunto 5 mesi fa. Anzi, la cabina dell'operatore telefonico recentemente sarebbe stata anche rimossa. Da allora nessun intervento di sistemazione, nulla è cambiato. Né la compagnia telefonica, né le maestranze locali si sono mosse a favore di cittadini autenti che da quel momento hanno avuto serie difficoltà con il proprio gestore telefonico. 5 mesi con copertura telefonica assente o a singhiozzo. Un disservizio che potrebbe anche restare tale per altri chissà quanti mesi, anche adesso a ridosso della stagione estiva e con molti cittadini che si trasferiranno nella frazione balneare di Marina Rimodica. Tutto dovuto a uno spaventoso incidente registrato appunto il pomeriggio dello scorso 2 dicembre quando un tir è finito sull'isola sparsi traffico sciantandosi contro una palma, abbattendo anche la segnaletica stradale e distruggendo l'impianto di telefonia. Sul posto intervenne il personale dei vigili del fuoco e del 118 ed allora si parlò di miracolo per il camionista al volante del tir che rimaste illeso nonostante il violento scontro all'altezza dell'incrocio con via Giovanni da Varanzano sulla provinciale 66 Marina Rimodica. In quella circostanza il conducente riuscì ad uscire sulle proprie gambe dalla cabina del tir trovandosi poi riparo all'interno dell'automobile di un automobilista in transito in attesa dei soccorsi. Un incidente terminato bene ma le cui conseguenze si continuano però a notare a causa del danneggiamento della cabina telefonica. Su tale disservizio ancora risolto è intervenuto il capogruppo della lega al consiglio comunale di Modica, Momo Carpentieri, che sentite le istanze di cittadini e attività commerciali chiede ufficialmente all'amministrazione comunale se è intenzione del comune attivarsi per far da intermediario tra utenti e compagnia telefonica affinché si risolva tale problematica nel minor tempo possibile. È necessario, afferma Carpentieri, trovare immediatamente una soluzione per la sistemazione della cabina telefonica visto che si tratta di un intervento non certo complesso e di facile attuazione ma che porrebbe la parola fine su un disservizio che si protrae già da troppi mesi. Sarebbe il caso di intervenire immediatamente e prima dell'inizio della stagione estiva, per questo continuo a Carpentieri, mi riservo di presentare apposita integrazione consigliare per capire come l'amministrazione intenda muoversi affinché si ripristini la normalità della copertura telefonica nella frazione di Marina di Modica. Grazie a tutti.